Ma chi sei? Tu non sei nessuno, Parei! Cari amici telespettatori, ben ritrovati con una edizione speciale dell'edicola di Enzo Spatalino. Volevo lanciare un messaggio ad un amico, amico fra virgolette, un tale David Parezzo, giornalista, co-conduttore della Zanzara insieme a Giuseppe Cruciani. Io non so come faccia Cruciani a sopportarlo. Signor Parezzo, mi hai dato dello schifoso. Ma chi sei? Ma chi sei tu? Ma chi sei? Tu che sei il censore, il protettore degli sciancati, dei dereliti. Signor Parezzo. Signor Parezzo. Signor Parezzo. Ma chi sei tu? Signor Parezzo. Degli sciancati, dei dereliti. Siete voi della sinistra, che vi sentite dei padri eterni, che offendete gli altri. Sarai tu uno schifoso, non io sicuramente. Signor Parezzo. Signor Parezzo. Signor Parezzo. Tu non sei nessuno Parezzo.